Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale. Oggi la dedichiamo alla vicenda che interessa il servizio di assistenza in favore dei minori diversamente abili a Gela. Il capogruppo consigliare del PD Enzo Cirignotta attacca l'assessore al ramo, immediata la replica dell'esponente della giunta messinese. Il capogruppo consigliare del PD Enzo Cirignotta esprime sdegno personale del gruppo consigliare del PD per il mancato avvio nelle scuole del servizio di assistenza in favore dei minori diversamente abili, così come anche denunciato dai genitori degli studenti. Amministrare una città, dice Cirignotta, significa programmare per tempo i servizi essenziali in favore della comunità ed in modo particolare quelli a sostegno degli studenti diversamente abili. Ritengo inaccettabili le motivazioni adotte dall'assessore al ramo, la quale addebita al taglio dei trasferimenti statali e regionali la mancanza delle risorse finanziarie necessarie a garantire il regolare avvio dei servizi in questione e l'ha invito, dice Cirignotta, fin da ora a fare meno vassarelle televisive e ad occuparsi di più dei bisogni delle fasce più diseggiate della nostra città. Questa vicenda rappresenta la riprova che l'attuale governo locale risulta inadeguato ad amministrare una realtà difficile e complessa come Gela. Il capo dell'amministrazione, troppo impegnato in trattative di basso profilo politico per mettere su una maggioranza labberciata ed improvvisata, che gli possa garantire la sopravvivenza, conclude Cirignotta, ha oramai perso di vista la vera mission di un amministratore locale, che è quella di operare quotidianamente per il bene della comunità che rappresenta. L'assessore comunale Elisabella rimarca che rincresce sempre a prendere dei disagi che si trovano a vivere le fasce deboli e nel caso di specie gli studenti disabili delle scuole primarie necessita una presa di responsabilità quando si è chiamati in prima persona a dover fronteggiare queste problematiche e invece riprolevole da condannare quando questo diventa il protesto per alcuni esponenti di lungo corso della politica locale per praticare il loro passatempo preferito, il tiro con le freccette. Entrando nel dettaglio della vicenda dei servizi alla persona resi nelle scuole di pertinenza comunale, ha detto l'assessore Abela, occorre precisare che in una determina dirigenziale firmata lo scorso anno tutti i dirigenti scolastici assumevano la responsabilità di nominare e sostenere economicamente e con i fondi che transitavano dal comune le spese necessarie al pagamento del personale al fine di garantire assistenza personale e alla comunicazione. Abela sottolinea come il personale in forza nelle scuole risulti essere in parte formato per adempiere questo genere di servizio ma che difficilmente viene impiegato visto che si tratta specialmente di personale di sesso maschile spesso incompatibile con l'utenza di riferimento. Non basta una dichiarazione unilaterale a lasciare che le responsabilità assunte vengano meno. chiaro è però che il problema sussiste e che quindi va risolto comunque. Se da un lato, dice Abela, abbiamo chiesto il rimpinguamento in bilancio delle somme destinate al servizio dimostrando con i fatti che l'attenzione sulla tematica è massima, dall'altra stiamo valutando velocemente misure alternative che possano andare incontro alle esigenze degli alunni disabili, delle loro famiglie e delle scuole che li ospitano. Come settore poi abbiamo chiesto degli aumenti delle somme in bilancio con fondi interni che ci consentirebbero, a manovra provata, di sopperire alle esigenze emerse con l'ottimizzazione del servizio per il prossimo anno. E da oggi, lunedì 10 ottobre, al Comune di Gela è possibile ritirare il modulo di iscrizione per poter usufruire del servizio di riflessione scolastica. Lo ha reso noto l'assessore ai servizi sociali e istruzione, Licia Bela. Sono interessate le famiglie degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia a tempo pieno e o prolungato che potranno ritirare l'istanza all'ufficio di segretariato sociale del settore servizi sociali, salute e istruzione in Viale Mediterraneo numero 27 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 ed il martedì e giovedì dalle 16 alle 17.30. Il modulo è disponibile anche online sullo sito del Comune di Gela, l'indirizzo comune.gela.cl.it. La domanda, debitamente compilata e munita degli allegati richiesti, va presentata entro e non oltre il prossimo 31 ottobre all'ufficio protocollo del Comune. E adesso apriamo la pagina della cronaca giudiziaria riferendovi degli arresti eseguiti a Gela dalla polizia in materia di contrasto alla droga. Ha scopertato la piantagione di marijuana in contrada Spina Santa per un valore commerciale di quasi 3 milioni di euro. Sono tre gli arresti e da un altro arresto è stato eseguito a Niscemi dai carabinieri per tentata estorsione e evasione. Proseguono intensamente le indagini della polizia di Gela, diretta da Francesco Marino, per identificare altri complici e sgominare la rete di spaccio della droga. E' di sabato scorso, infatti, l'ultimo blitz in ordine cronologico eseguito dagli agenti delle squadre volanti e del personale della squadra di polizia giudiziaria, diretta dal commissario capo Laura Romano, assieme alla squadra mobile di Caltanissetta, diretta da Marzia Giustarisi, e con l'ausilio della Reparto Prevenzione e Crimine Sicilio Occidentale di Palermo, che ha portato all'individuazione di una maxi piantagione di marijuana nelle campagne gelesi. In Contrada Spina Santa, tra le serre dove si coltiva pomodoro ciliegino, sono state rinvenute mille piante di canapa indiana mature per la raccolta e altri 40 kg della stessa droga gesticcata, frazionata in cassette e pronta per essere venduta. Il valore commerciale è stato stimato in 3 milioni di euro. Tre le persone arrestate e recruse nel carcere di Contrada Parate. Si tratta di Rosario Giannone, 58 anni, e dei figli Nunzio, di 36, e Giuseppe Salvatore, di 32, tutti con precedenti specifici. E i carabinieri hanno ammanettato un amici mese di 28 anni per giudicato. Si tratta di Giuliano Giuseppe Placenti. Il giovane, nel corso della settimana, avrebbe chiesto rivolte ai propri genitori con minacce di morte e soldi per acquistare droga. Sono stati gli stessi familiari a rivolgersi ai militari dell'arma. All'ennesima richiesta e al rifiuto dei suoi congiunti, Placenti avrebbe colpito violentamente la porta della sua casa fino a scardinarla, ad assistere alla scena anche i carabinieri che hanno bloccato e arrestato il 28enne. Il giovane, dopo essere finito ai domiciliari, ha cercato di evadere. Anche in questo caso è stato fermato e nuovamente arrestato. Adesso si trova recluso nel carcere di Contrada Parate, a Gela. La pagina della cronaca fa registrare anche un incendio. All'alba di oggi, in via San Martino, nel quartiere Catubazza, il fuoco ha interessato una Golf Volkswagen di un operaio metalmeccanico. Due persone sono state arrestate, poste ai domiciliari e ad altre tre sono stati notificati i divieti di dimora allicata. Sono tutti accusati di estorsione. Ad eseguire all'alba di oggi l'ordinanza di custodia cautelare e il sequestro preventivo firmata dal GIP del Tribunale di Agrigento, su richiesta della procura, sono stati carabinieri di Agrigento e militari della tenenza delicata della Guardia di Finanza. I fatti di estorsione in danno di alcuni dipendenti delle cooperative sociali Arcobaleno e Libero Gabbiano si sarebbero verificati allicata fino a tutto il 2015. Le indagini hanno avuto slancio, rende noto la procura, grazie alla denuncia formalizzata il 13 settembre del 2013 dall'ex dipendente della cooperativa Arcobaleno. I motivi passionali sarebbero stati all'origine, a vittoria, di una violenta rissa tra rumeni e ubriachi scoppiata in piazza Berlinguer e conclusasi con l'arrivo della Polizia di Stato e l'arresto di sei persone, tra cui una donna. A darsene di santa ragione, con calci, pugni e bastoni, due fazioni, una coppia di fidanzati che abita in paese ed un gruppo di connazionali residenti a Niscemi. Tutti devono rispondere di rissa gravata, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e lesioni personali in concorso. Benedizione delle mamme in attesa preseduta da Monsignore Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo e dal vescovo di Piazza Merina, Monsignore Rosario Gisana, ieri nella chiesa Sant'Agostino di Gela in occasione della festa della Madonna del Parto. L'animazione della celebrazione eucaristica è stata affidata al CAV, Centro di Aiuto alla Vita e al Coro Cor Unum. Voi da anni proclamate l'importanza della vita, tutta la vostra attività è un inno alla nascita? Assolutamente, noi proclamiamo questo, l'importanza che ha un periodo così dominante nella vita di una donna che è quella di portare alla luce una vita, la vita del proprio bambino. Il CAV offre un supporto molto importante anche a tutte quelle donne che non hanno la forza di affrontare una gravidanza e spesso sono anche tentate dalla voglia di interrompere. Sì, questo capita in questo percorso della donna perché si attraverso un periodo di grande fragilità. Non sempre la gravidanza è accompagnata da grande forza, anche di spirito, per poter affrontare comunque tutta l'importanza che richiede la nascita di un figlio. E in determinate condizioni questo può sembrare ancora più pesante. Ecco che la nostra associazione dice solo questo, si presenta proprio a ogni donna, ad ogni mamma che attraversa questo periodo di affrontarlo con un sostegno, con qualcuno che ti sta vicino, che ti ascolta, che ti supporta, che ti accompagna, come facciamo oggi, che accompagniamo le nostre prossime mamme e che chiedono soltanto di essere semplicemente benedette durante questa celebrazione. Il CAV infatti vuole essere proprio questo, quasi l'eco di questo rintocco di campane, un eco di un inno alla vita. Ieri erano presenti i soci della Sorop di Ministra di Gela che nel 2012 hanno fatto restaurare l'antica immagine. Noi siamo venute in questa chiesa ad offrire il restauro di un quadro, di una statua. Padre Sassetta dopo pochi minuti scese con questo meraviglioso quadro che era rovinato dal tempo, presentava delle lacerazioni. Ce l'ho affidato con grande fiducia e noi lo abbiamo dato nelle mani della nostra socia Maria Grazia Vitale che lo ha restaurato con grande professionalità e dedizione, restituendogli l'antica bellezza. Questo quadro oggi è qui, esposto all'altare. Per noi questo è un momento di profonda gioia. Ci piace essere coinvolte in questa festa perché è un po' la festa del Soroptimist in quanto siamo riusciti a donare a questa chiesa un quadro bellissimo, antico e molto simbolico. Sabato e domenica prossimi, presso la chiesa di Sant'Agostino, arriveranno dal santuario di Cascia le reliquie di Santa Rita. Il reliquiario in quest'anno giubilare sta visitando tutte le chiese nel mondo dove si venera la santa dei casi impossibili. Annuale conferenza diocesana del Servizio per la promozione del sostegno economico alla chiesa si trarà sabato 15 ottobre alle 9.30 nella sala riunioni del Museo Diocesano di Piazza Armerina di fronte alla cattedrale. L'incontro, che sarà preseduto dal Vescovo Monsignor Rosario Gisana, permetterà di comunicare i risultati ottenuti nello scorso anno e dibattere delle azioni da concordare e da intraprendere. Lo comunica l'incaricato diocesano Orazio Ciaccia. Quattro giorni di screening della visita gratuito a Gela in occasione della giornata mondiale della vista grazie alla sezione provinciale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Ollus di Caltanissetta che metterà a disposizione un oculista e una unità oftalmica. Le visite oculistiche gratuite potranno essere effettuate oggi, domani, mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre. L'obiettivo è quello della sensibilizzazione e del controllo periodico della salute degli occhi. Lo screening oculistico sarà rivolto in orario scolastico agli studenti della liceo scientifico Elio Vittorini di Gela. Nel pomeriggio l'unità si sposterà in Piazza Umberto I dove dalle 15.30 alle 19 l'intera cittadinanza potrà effettuare lo screening. La sicurezza sul lavoro è stato il tema centrale dell'evento organizzato dalla sezione provinciale di Caltanissetta dell'ANMIL, associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, in occasione della 66esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Una manifestazione che ha previsto diversi momenti. Domenica 9 ottobre infatti, dopo il raduno in Piazza Martiri d'Ungheria, presso la parrocchia Regina Pacis, è stata celebrata la Santa Messa. Al termine della funzione religiosa ha avuto inizio un corteo, accompagnato dalle note della banda musicale sino in Piazza Europa, dove è stata deposta una corona dall'oro davanti al monumento ai caduti sul lavoro. Il corteo ha così continuato la sua marcia, verso il centro storico e per l'esattezza Corso Vittorio Emanuele, davanti al teatro Regina Margherita, lì dove si è svolta una cerimonia civile. Questa è la cinquandesima giornata che io faccio, perché sono un ragazzino naturalmente portato qui. Noi altri stiamo lottando, abbiamo lottato e lotteremo per la prevenzione. La prevenzione perché non è dignitoso da parte di chi ci governa, sia in genio, regione e locale, che ancora si muore per il lavoro. Ogni vita che si perde per noi è una sconvitta, e questa sconvitta naturalmente se la debbano portare a casa, dormirci di sopra e dire che cosa facciamo qui, andiamone a casa. Ancora noi altri continuiamo a dire la prevenzione, prevenzione, prevenzione. Prevenzione non significa prevenire, non significa disoccupazione, non significa perdita del posto di lavoro, non significa che sono ritornati i padroni, in Italia, come era nel 42, 43, 44, 45, dove c'erano i padroni. Sono ritornati i padroni, tanto che naturalmente non si parla altro di cose inutili, le cose utili naturalmente non se ne parla. Chi regge l'economia naturalmente della città di Caltanissetta e della nazione sono coloro i quali hanno pagato un prezzo caro sul luogo dei lavori. Un campo a scuola dedicato a tutte le persone che soffrono di diabete, ai loro familiari e ai loro amici, è organizzato dalla associazione di abetici Eschilo, presieduta a Gela da Giuseppe Curatolo. Si terrà da venerdì 14 a domenica 16 ottobre verso il villaggio turistico Sicania Resort a Tenutella, in territorio di Marina di Butera. Gli incontri inizieranno venerdì alle 16.30 e termineranno domenica alle 17.30. Diversi esperti, in funzione di docenti per le singole competenze, che prenderanno parte alla tre giorni di incontri. Prevista anche la partecipazione del Presidente della Casa del Volontariato di Gela. Chi è interessato a partecipare può contattare il 393 3748 604. Gela è stata scelta come sede del Convegno Scientifico sulle patologie rare del sangue. Ne dà la notizia l'Associazione Italiana Pazienti con Malattie Mieloprofilarative, presieduta in città da Giacomo Giurato. L'obiettivo di questa realtà è quello di aumentare le opportunità di ricerca scientifica sulla causa e la cura della mielofibrosi, di divulgare la conoscenza della malattia fra i pazienti e i medici e di promuovere una assistenza adeguata ai malati e alle loro famiglie. L'iniziativa ha il patrocinio dell'Assemblea regionale siciliana della Regione Sicilia e del Comune di Gela e costituisce una vetrina internazionale per la città del Golfo. L'appuntamento è per il 15 ottobre alle 18 nella Sala Congressi della Sicania Resort. Il giorno dopo, domenica 16, è prevista una tappa a Gela con una visita guidata presso i siti archeologici delle mura Timoleontè del Museo regionale e dei bagni greci. Appuntamento con la trasmissione 10 domande 10 questa sera alle 21. Nostro ospite sarà il segretario generale della Femme Cacisla, Francesco Emiliani. Le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18. Fai la cosa giusta, differenzi ai rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, lunedì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione il secco residuale in un sacco trasparente. Conferire piccoli oggetti di uso domestico, nastro adesivo, penne, carta a carbone, oleata, plastificata e da forno, posate in plastica, sottovasi, bacinelli, materiali in plastica non di imballaggio, giocattoli, elettrici e nonna, cassette audio e video, floppy disk, cd, tvd, spugne sintetiche e stracci sporti, cosmetici, calze in nylon, lumini votivi, pannolini e assorbenti igienici, sacchetti aspirapolvi, mozziconi di sigaretta. È assolutamente vietato l'impiego di sacchi neri e o incolorazioni che non consentono il facile riconoscimento di quanto conferito. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Rieccoci seconda parte del telegiornale per ricordare Salvatore Zuppardo a 18 anni dalla sua scomparsa e dopo i grandi successi delle precedenti edizioni del premio nazionale di poesia La Gorgone d'Oro, il Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo indice e organizza la diciassettesima edizione del prestigioso premio. Per informazioni 0 933 93 74 74 339 26 26 015 331 80 89 712 Comincerà mercoledì 12 ottobre per l'ultimo corso sub ex REC dell'anno 2016 valido per il conseguimento della licenza alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande. Sono ancora disponibili pochi posti. Gli interessati possono effettuare l'iscrizione entro e non oltre oggi le 19 di oggi presso la segreteria della Confcommercio in via Cicerone al Civico 104 a Gela. E ora parliamo di sport calcio il Gela perde l'imbattibilità in campionato ieri al Presti ha vinto la capolista Igea Virtus. La capolista Igea Virtus fa su al derby isolano contro il Gela e resta al comando del girone I del campionato di 3D. Allo stadio Presti la compagine giallorossa del tecnico Raffaele infligge Biancazzurri la prima sconfitta della stagione con un secco 2-0 giunto al termine di una gara interpretata alla perfezione dai barcelonesi e che ha visto il Gela mordersi le mani per le tante occasioni create e non sfruttate soprattutto nel primo tempo. Alla fine Igea ha dimostrato di essere una squadra cinica e spietata sotto porta che ha saputo capitalizzare al massimo le poche occasioni avute tra i piedi. Giadesi che al contrario hanno oltremodo sprecato sotto porta raccogliendo alla fine solo le briciole rispetto alla gran mole di gioco prodotta nella metacampa avversaria. Davvero un peccato per i padroni di casa che non hanno così potuto vestigiare con un successo il ritorno nel proprio stadio dopo i lavori di manutenzione che hanno interessato il manto erboso del Presti. La cronaca partenza bruciante dei padroni di casa che già dopo tre giri di orologio si rendono pericolosi con Kosovan che per poco non la mette dentro di destro. Al nono Nassi su cross di Campanaro colpisce di testa miracolo del portiere Inferrera che manda la palla in angolo. All'undicesimo attraversa ancora nel numero 9 Giovese che colpisce di testa su cross di Chidichimo. È un gel aggressivo che tenta più di presa la via del gol con grande aggressività. Al quindicesimo ha munito Kosovan per gioco pericoloso a munizione che peserà alla fine del match. Al trentaseiesimo Evola dai 25 metri prova un tiro pericoloso che venisce di poco fuori dalla porta dei barceloresi. clamorosa azione del Gela con Montalbano che colpisce di testa su cross di Campanaro ma il pallone finisce di poco alto sopra la traversa. L'Igea passa al quarantatresimo con Caputa che lascia di stucco un po' tutti. Un tiro, un gol. La prima frazione del match si chiude con gli Igeani in vantaggio di una rete. Nella ripresa la manovra del Gela non è più convincente come nel primo tempo. Al quarto è infatti L'Igea Virtus ad essere pericolosa con Longo. Parata providenziale di Seitta. Al decimo ci prova Montalbano le facile preda del portiere ospite. Infantino allora butta nella mischia Alma ma sostanzialmente il suo ingresso non cambierà le sorti del match. Il raddoppio degli ospiti arriva al ventiquattresimo con Desi che punisce in contropiede la retroguardia giolese. 2-0 è partita in salita per Bonafini e compagni. Salita che diventa ancora più impervia al ventinovesimo con l'ingiusta espulsione di Kosovan che rimedia un doppio giallo per un fallo in realtà commesso da Evola. Inutili le proteste del Gela che rimane privo di uno dei suoi uomini. La gara a quel punto scivola via con il Gela che accusa il colpo ma che tenta comunque con orgoglio di trovare la via del gol con Bonafini ma la difesa del Gela è sempre attenta. Termina così con gli ospiti che tornano a casa con il bottino pieno e tra gli applausi dei suoi oltre 200 sostenitori giunti a Gela e i palloni di casa usciti comunque tra gli elogi del proprio pubblico. E a fine partita Flavio Centamore ha raccolto le impressioni dei protagonisti. Il tecnico biancazzurro Pietro Infantino interviene anche sull'ingiusta espulsione dell'attaccante Kosovan. Noi dobbiamo lavorare su noi stessi siamo a buon punto sappiamo che stiamo costruendo qualcosa di simpatico qualcosa che il presidente ha detto noi ci dobbiamo divertire ci dobbiamo dobbiamo avere un'identità dobbiamo vedere la gente che si entusiasma vedendoci giocare e noi siamo sulla buona strada credo che non mi faccio condizionare dal risultato ma da dove possiamo migliorare credo che in fase offensiva qualcosina dobbiamo migliorare sicuramente. Il tecnico giolese interviene sull'ingiusta espulsione dell'attaccante Kosovan. Io l'ho detto già al commissario di campo l'ho detto al signor albitro perché credo che l'albitro ha meno colpe perché credo che il collaboratore era a fianco a me Kosovan era a 10 metri ho detto ti vedi le immagini e poi hai fatto un errore si può perdere la partita però è un errore grave perché Kosovan ha preso la palla a 10 metri l'ha portata sul posto dove c'era il fallo per farlo battere e le botti fuori. L'Igea Virtus Barcellona davvero cinica e spietata contro un gel che ha provato a portarsi in vantaggio nel primo tempo ma poi come ripeto l'Igea Virtus ha portato a casa l'intera posta in paio. Sì diciamo che siamo stati bravi io ritengo che questa sia stata una partita bellissima giocata a visaperto mi sono tantissimo divertito non voglio fare complimenti tanto così per al Gela ma il Gela ha dimostrato anche di avere un ottimo gioco ha espresso un ottimo calcio e noi siamo stati sicuramente altrettanto bravi è stata una partita a visaperto fra due squadre che secondo me in questo campionato faranno bene dove noi non perdiamo di vista qual è il nostro primo obiettivo che è quella della permanenza in serie D infatti non ci montiamo per niente la testa se in questo momento siamo primi in classifica perché il campionato è lunghissimo sicuramente stiamo mettendo tanti punti e sul proseguio lo vediamo bene e speriamo che poi una volta raggiunta la matematica salvezza guarderemo il dopo se continui a giocare così per l'Igea vi toglierete delle belle soddisfazioni ma sicuramente se l'Igea gioca così è il merito del mister di tutto lo staff tecnico dei ragazzi diciamo che è un lavoro che abbiamo iniziato con mister Raffaele due anni e mezzo fa io siccome sono dell'avviso che il lavoro e i progetti danno i frutti sicuramente noi con questa mentalità con questo modo di vedere abbiamo sempre fatto e adesso diciamo il tempo ci ha dato ragione ed è andata male al terreno a Gela nell'ambito della quinta giornata del campionato di eccellenza i gelorossi in crisi nera sono stati battuti per 2-0 dalla riviera Marmi per il team allenato da Natale Serafino si tratta della quinta sconfitta di fila dall'inizio del torneo si svolgerà venerdì 14 ottobre alle 9.30 l'ottava edizione Corri nel parco di Montelungo promossa dalla associazione Green Sport di Giuseppe Veretti si tratta di una corsa promozionale ludico-ricreativa che coinvolgerà centinaia di bambini delle scuole con l'intendo di promuovere l'attività motoria all'aperto parte del ricavato delle edizioni sarà devoluto all'Unicef saranno presenti anche il corpo forestale e la croce rossa la pagina dello spettacolo nuova stagione teatrale all'Eschilo di Gela dall'8 novembre prossimo in scena i più grandi artisti italiani del teatro e della televisione Gabriele Garco Ugo Pagliai Raimondo Todaro Marco Bocci Maria Angela D'Abraccio e tanti altri ancora per informazioni recarsi in teatro ogni giorno dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20 ci sono due numeri telefonici 0933 91 18 92 e 345 5 5 8 8 0 5 8 0 il prezzo dell'abbonamento lo ricordiamo è di 90 euro ed è scattata la campagna abbonamenti per la stagione teatrale anche all'antidoto di Machitella a Gela il cartellone che comincerà il prossimo 23 novembre prevede tra gli altri l'esibizione di Pippo Franco per informazioni rivolgersi al 338 7143 293 330 225 442 0933 82 2707 l'abbonamento intero lo ricordiamo costa 70 euro 55 euro ridotto per i giovani abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni grazie a tutti